Fabio Fazio, quanto dovrebbe prendere? Entro il limite del tetto? Io credo che una tv di Stato dovrebbe avere un tetto massimo. Mi sorprendo vedendo certe cifre incredibili, io le reputo incredibili per una tv di Stato. Poi, ripeto, c'è chi ha procuratori molto bravi e riesce a fare dei contratti sui quali sinceramente a qualche punto interrogativo me lo pongo. Per esempio, produrre il proprio programma in una tv di Stato, essere produttore e conduttore mi lascia basito. Io non riuscivo a far avere 100 euro in più ai miei collaboratori, facevo fatica per fargli avere un minimo in più, visto anche i grandi successi che avevamo. Poi scopri altre realtà e allora la domanda te la chiedi. E allora sono bravi gli agenti o sono deboli direttori? Non mi compete più, sono fuori, basta di intelligenza.